Perché è un uomo libero, non servo dell'Europa, delle banche, dell'euro, del politicamente corretto, dell'immigrazione di massa. È un uomo che dice quello che deve dire, anche alla Lega e anche a me ne ha detto di tutti i colori, però non è organico alla sinistra, a quei salotti radical chic e sarebbe una rivoluzione. Io penso che se gli italiani potessero votare direttamente voterebbero questo bergamasco, invece di Prodi, Amato, Veltroni, Fassino, queste tristezze umane. E quindi lanciamo questa sfida al centro-destra, se ci sei batti un colpo, mi dica Berlusconi perché non Feltri. Una sfida quindi a tutti i deputati di Forza Italia? Un messaggio di speranza che esisterà della vita sulla luna dopo Renzi. Non si fermerà il mondo dopo Renzi, non si decide tutto a casa Renzi. E quindi noi esistiamo, la Lega c'è, coerente, orgogliosa, andiamo avanti per la nostra strada, Zipra si insegna, un partito del 4% può arrivare a governare il paese. Feltri potrebbe essere quel passaggio per radunare gente di buona volontà che non vuole morire renziana.